Signori, oggi è il grande giorno in cui arriverò in Arena 9, ma non sono da solo. Infatti, dopo due anni di attesa, sono tornato in compagnia di... Non lo so mille! E dell'altro che non aveva un nome. Dell'uomo senza nome. Oggi arriverò in Arena 9 grazie all'utilizzo di un bug che mi ha insegnato lui. Non lo so mille. Esatto. Ovvero, se tipo tu fai... Non si è capito. Vabbè, non ha funzionato il bug, ma... Vabbè, se tu fai tipo... Vabbè, spiegalo tu, spiegalo tu. L'hai trovato il bot? Allora, praticamente, quando ti dà tempo stimato devi annullare. Fin quando non te lo dà? Fin quando non ti dà la partita e ti uscirà un bot, lo riconoscerai perché sarà scritto nessun clan. E funziona fino all'arena 12. È un nome normale, fino all'arena 12. Funziona fino all'arena 12. Ma a me ne è il Gran Cavaliere. Il Gran Cavaliere è un fortissimo. Prendi la potore, prendi la potore, prendi la potore. Prendi la potore. Prendi la potore, prendi la potore. La prego, la prego. Ok. Quindi mi hai messi? Doppia volta. Ah, mannaccio, la mia... Ma come fai ad avere la doppia volta, scusa? Ma c'ho lo specchio. Ah, mangio questo. Ma come devo avere lo specchio, sto qua? Si sblocca... Io ho questo accanto perché... Ai tempi si sbloccava in Arena 5. Ah. Ai tempi. Baby the Goblin è qua. Vero. Romani uscirà un video di Minecraft. Stop, fai. A che ora, mamma mia? E ci facciamo un video di Minecraft domani. A che ora? Non so. Potremmo farlo. A che ora? Soprima sera. E... Hai vinto? Signori di Twitch. Siamo ufficialmente... Arena 9. In Arena 9. Troppo forti. Troppo forti. Campioni d'Europa. E adesso continuiamo. Sì. Aspè, scrivo sul clan Arena 9. Oh. Sì, un... Cosa? Eh, lo scambio. Lo scambio? Eh, non ho gettoni. Ma sei già in livello re 8? 9. E come fai? E come faccio? Io sono in Arena 12. Ma il livello re si fa con gli scambi, le donazioni e i potenziamenti delle carte. Io faccio solo potenziamenti. Ehm... Devi mettere gli scheletri. E adesso è un po' molto. Non so. No, però a Torio ci vando. Sì. No, no. No, no. Dai, l'altra ora... È la princesa. Prendi anche l'altra ora. Non ho la princesa nel deck, però. Tu. Non ce l'ho ora. Quello è l'unica che ha nel deck. Questi... Ti stai chiedendo, sono tutti in api perché se no non può vincere. Solo con i botto sa vincere. Perdi. Non ti preoccupare. Che difesa, mamma mia. Non ti preoccupare. Mangolfiera a sinistra. L'ho messa, l'ho messa. No, la connessione. Ok. Quanto ha tolto la mangolfiera? Non lo so. No. Ma come? Tagliola addosso. Perché lo prende? Perché lo stai durando più di soli. Il banile goblin. Il banile goblin. Non c'è. Non c'è. Il banile cavaliere mi ha messo. Non c'è becca. Ma che cos'è? Il boscaiole si ha messo il drago. Dai, mettimi il drago. Hai fatto veramente? Sì. E forse ce l'hai fatta? Non ce la fa. Non lo sapremo mai. No, due. Due, due. Per gli altri tre minuti sono andati a farsi i bonedire. Vabbè, che facciamo? E l'attesa? Siamo qui. In gioco. Va bene. Chiudi il gioco. Devi far sentire una musica merodiale agli altri. Vedete, non sapremo mai come finisce questa partita. Vabbè. Sentite. Chiudo e riapro il gioco. Tanto Coppe non ne ha persa perché l'ho appena salita. I gole mi esplodano. Ciao, per oggi. Ciao. Bene. Che le ha preso stasera? Io no. No. Non le ha preso da... Come si chiama? Sì. Matteo, come si chiama? No. Amare. E non parte ancora? Non parte. E non parte. Qua? Vabbè, dato che non parte, signori, io vi saluto, dato che non parte. Sei minuti li abbiamo fatti. Arriviamo a sette, giusto perla. Arriviamo giusto a sette. Per momento di utilizzare. Per... Manco una centesima. No, no. Ma se andiamo alla briga che la prende bene? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Grazie a tutti.